vaiolo delle scimmie caso diagnosticato da una clinica pesarese scontro autocamio nella galleria del furlo grave un anziano il teatro rossini svela il suo nuovo ridotto alla vigilia del roff enoturismo in marcia dalla vigna alla tavola gradara altre due sere con le meraviglie del magic castle ben ritrovati amiche amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che torna con una nuova settimana della nostra informazione dedicata alla provincia di pesaro urbino e più approfonditamente anche alla regione marche telegiornale di lunedì 8 di agosto che apriamo occupandoci quest'oggi delle vaiolo delle scimmie sono stati infatti registrati i primi casi nelle marche ve lo abbiamo raccontato anche la settimana scorsa compreso un caso diagnosticato da una clinica dermatologica pesarese clinica a cui oggi abbiamo fatto visita e con la quale abbiamo approfondito quelle che sono le manifestazioni ma anche il trattamento di questa recente patologia abbiamo visitato un paziente alla sua corsa settimana di 58 anni l'abbiamo visto insieme con mio collega andrea naselli siccome appunto il quadro clinico era abbastanza strano presentava delle vescicole a livello dei genitali abbiamo pensato di potere di fargli fare anche un esame presso le malattie infettive della regione dal cui lui proveniva nel pomeriggio il centro di malattie infettive ci ha affermato appunto che la diagnosi era giusto quindi era un caso di variolo delle scimmie e dunque il paziente poi è stato messo in quarantena a casa come terapia non è che ci sia bisogno di una terapia particolare perché si va sul sintomo quindi il paziente isolato perché può essere contagioso e però non è come come patologia non è grave diciamo quindi si risolverà anche spontaneamente in italia fino adesso ci sono stati diagnosticati 545 casi di questi 540 uomini e cinque donne la non nella nostra regione saranno circa quattro i casi diagnosticati mentre sono più colpite la lombardia il veneto la ligura e il lazio come si trasmette si trasmette solo contatto diretto 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 col paziente che ha questa malattia cioè quindi a contatto con le lesioni cutanee oppure anche con il respiro o con la saliva soltanto se si sta a contatto un pochino di tempo non deve essere un contatto veloce quindi soprattutto in un rapporto sessuale può iniziare con una febbre una febbricola mal di testa dolore ai muscoli linfonodi cioè questi noduli che si ingrossano nel corpo dopo tre quattro giorni da queste manifestazioni ecco che compaiono le lesioni cutanee che si presentano con delle ulcerazioni tipo varicella appunto quel liquido che fuoriesce da queste vescicole le croste sono assolutamente contagiose è una cosa interessante che il nostro paziente di 58 anni non era stato vaccinato per il vaiolo allora c'è un nesso tra il vaiolo e la malattia il vaiolo delle scimmie il nesso è che il virus si assomiglia anche se le manifestazioni cliniche sono completamente diverse comunque prima degli anni 80 era obbligatorio il vaccino del vaiolo e c'erano circa un 80 per cento della popolazione protetta da questo vaccino ora visto che non è più obbligatorio il vaccino del vaiolo attualmente solo un 30 per cento della popolazione è vaccinata per il vaiolo e appunto chi non è vaccinato più facilmente può contrarre questo questo virus più che una terapia esiste una possibilità di non contrarre il virus che è il vaccino il vaccino il vaccino che attualmente il ministero della salute ha messo a disposizione delle regioni più più compromesse cioè della lombardia veneto liguria e lazio ma se ci fosse bisogno anche la nostra regione può richiedere il vaccino non ci sono non ci saranno problemi a poterlo avere il vaccino si somministra in due dosi a distanza di un mese l'una dall'altra si chiama im va max però non è consigliato per tutte le categorie di pazienti in quanto il ministero della salute ha lo consiglia nei pazienti a rischio che sono i le persone che lavorano nei laboratori quindi che sono più a contatto col virus e anche gli omosessuali transessuali e bisessuali un'auto e due autocar sono entrati in collisione questa mattina all'interno della galleria del furlo lo scontro è avvenuto a circa 700 metri dall'imboccatura in direzione cagli pesero l'incidente sarebbe stato causato da un 85 anni di acqualagna che alla guida di una dacia nella galleria ha tamponato un tir che lo precedeva ed è poi finito nell'altra corsia schiantandosi contro un altro camion che proveniva dalla direzione opposta sono intervenuti vigili del fuoco di cagli che hanno estratto il conducente dell'auto dalle lamiera cartocciate dopo il primo soccorso del 118 si è resa necessaria la chiamata dell'eleambulanza che ha trasferito l'anziano ferito alle torrette di ancona ancora cronaca perché nel tardo pomeriggio di sabato al largo di fiorenzuola di focara ha rischiato di affondare una barca di otto metri con a bordo 11 persone di cui sei bambini provvidenziale l'intervento della guardia costiera intervenuta in seguito all'allarme dato dal proprietario della barca barca che ha cominciato a riempirsi d'acqua in conseguenza di un malfunzionamento della pompa di sentina che consente di svuotare la barca appunto dall'acqua la capitaneria ha tratto in salvo le 11 persone utilizzando due mezzi di soccorso e trainando la barca in porto con un rimorchio e cambiamo argomento domani inizia infatti il 43esimo rossini opera festival e torna nelle teatro rossini che si ripresenta riqualificato diciamo al 95 per cento manca infatti soltanto la sala della repubblica che però è quasi ultimata e oggi è stata presentata in anteprima sarà una sorta di teatro nelle teatro fruibile però dall'autunno inizia domani 9 agosto il 43esimo rossini opera festival alla vigilia della kermesse il comune di pesero presenta in anteprima la ultimazione dei lavori alla sala della repubblica un intervento assolutamente complesso siamo a circa il 95 per cento dell'opera che una volta completata con i lavori che riprenderanno a fine agosto subito dopo il termine del roff consegneranno in autunno un teatro ridotto che di fatto rinnova la struttura antichissima guardando al futuro c'eravamo riproposti di terminare i lavori edili della sala repubblica per il roff ce l'abbiamo fatta al 95 per cento intanto il roff va avanti è potuto iniziare il teatro funziona a capienza piena cosa su cui diciamo non tutti scommettevano e sulla sala della repubblica standosi dentro insomma si capisce che un po un'altra cosa o meglio è tornata in parte alla bellezza del passato in parte con un nuovo modulo tecnologico che ne permette l'insonorizzazione rispetto al resto del teatro tant'è che mentre stiamo parlando è in corso la generale del viaggio Reims e non lo stiamo sentendo mentre prima non c'era una divisione di suoni tra la sala principale del teatro e la sala della repubblica quindi si può dire che abbiamo un vero e proprio ridotto che può lavorare contemporaneamente e acusticamente tra le due sale e poi appunto diciamo manca l'ultimo step che è quello di una pavimentazione che porterà tutta la sala a un unico piano di calpestio in modo da poter regalare alla città anche quel salone coperto tra i tanti che insomma mancano un po' alla città l'unico salone diciamo un po' grande è il salone metaurense di Palazzo Ducale che con la disponibilità della prefettura e del prefetto utilizziamo spesso ma averne anche uno comunale all'interno del teatro sia per le attività teatrali di letture, residenze di danza ma anche momenti di rappresentanza potenzialmente eventi, meeting, cene aziendali insomma collegate all'utilizzo della sala principale è sicuramente una grossa miglioria per la città. E dunque nel mese di ottobre dovrebbe esserci l'inaugurazione di questo luogo, un teatro nel teatro che ridà vigore ad uno spazio della Rossini fin qui troppo poco utilizzato. La capienza diciamo è almeno 120 posti che saranno diciamo sostanzialmente localizzati al centro di questo spazio su cui stiamo, lo spazio verrà però diciamo compartimentato ulteriormente perché le prestazioni acustiche che già ha in questo momento, questo si deve a queste paraste, alle bucature delle finestre, alla parete dorata che vedete alle mie spalle saranno ulteriormente incrementate per cui si potrà effettivamente fare qualsiasi cosa in modo tale che ecco non esca nessun suono e questo era anche un obiettivo da raggiungere con la sovrintendenza, se ne discusse anche per la questione delle finestre e quindi anche proprio degli infissi. Il progetto è un progetto che di fatto in questo momento è stato finanziato con un fondo Cipe del Ministero della Cultura e altri due finanziamenti della Regione, quindi di fatto è stata una sorta di invenzione anche amministrativa però ben riuscita credo per adesso, per la quale effettivamente questo spazio allo stato attuale non ha avuto esborsi da parte del Comune di Peso. E ad alzare il sipario sul ROF non sarà però il Teatro Rossini ma la Vitri Frigo Arena che domani sera taglia il nastro alla rassegna con le Com Torì. Su il sipario al 43esimo Rossini Opera Festival che dal 9 al 21 agosto convergerà a Pesaro la passione dei melomani internazionali. È il primo ROF con il tenore Juan Diego Flores direttore artistico della rassegna senza rinunciare però al suo naturale habitat da palcoscenico. Il cantante peruviano sarà infatti nel cast delle Com Torì che martedì 9 agosto inaugurerà il Festival alla Vitri Frigo Arena con Diego Mateus sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro del Teatro Ventidio Basso e la regia Le scene e i costumi di Ugo De Ana. Il 10 agosto ci sarà la ripresa della Gazzetta con Carlo Rizzi a dirigere l'Orchestra Sinfonica Rossini e il Coro del Teatro della Fortuna in uno spettacolo ideato da Marco Carniti. Spettacolo significativo anche perché riaprirà le porte del Teatro Rossini dopo i lunghi lavori di riqualificazione. L'11 agosto andrà in scena l'altra nuova produzione di questo festival oltre alle Com Torì. Si tratta dell'hotello diretto da Yves Abel. Come ogni anno i giovani cantanti dell'Accademia Alberto Zedda interpreteranno il viaggio a Rams il 13 e 15 agosto al Teatro Rossini. Gli allievi dell'Accademia Rossiniana che da quest'anno è sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi saranno inoltre protagonisti dei concerti al museo nel Museo Nazionale Rossini. Fitto il programma concertistico con sei appuntamenti tutti in programma Rossini. Il ROF 2022 si chiuderà domenica 21 agosto alla Vitrifico Arena con tra rondò e tourne d'ò, gala celebrativo che festeggia i 40 anni di Pierluigi Pizzi al ROF. Lo spettacolo sarà anche videoproiettato in Piazza del Popolo. È stato pubblicato oggi il bando della Regione Marche dalla vigna alla tavola che è stato presentato questa mattina al ristorante Polo Pasta e Pizza di Pesaro. Si tratta di una iniziativa che crea un filo diretto fra le cantine e i ristoranti marchigiani valorizzando le produzioni vinicole autoctone nei locali del territorio e aprendo anche la strada ad una sempre più strutturata politica di enoturismo. Oggi esce il bando dalla vigna alla tavola che è in una seconda edizione. L'anno scorso sono stati superati i 350 eventi realizzati proprio sull'onda dell'enoturismo. Io credo che questo ci fa capire quanto la nostra Regione e la produzione vitivinicola sia matura per essere attrattiva e per rappresentare un tipo di turismo esperienziale che si può venire a fare nelle Marche, cioè venire a visitare, a scoprire, a degustare prodotti enogastronomici ma soprattutto del vino eccellente. Sta a noi il coordinamento e la promozione di questa capacità produttiva facendo in modo che le cantine si trasformino in luoghi di accoglienza turistica. Per fare questo è necessario ancora aumentare la consapevolezza e la collaborazione tra i ristoranti, gli alberghi, i campeggi, le enoteche e chi produce vino. E anche le agenzie di comunicazione ma soprattutto quelle di operatori turistici. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo rifatto questo bando che ha alla base un appartenariato tra imprenditori di produzione, quindi cantine, operatori enoturistici, per la prima volta si parla dei produttori perché è stato inserito in una nuova legge e poi soprattutto molto importante è la capacità di fare anche comunicazione. Abbiamo messo un budget a disposizione di comunicazione in modo che si parli delle marche. E infine la differenza rispetto allo scorso anno è che si possono utilizzare in questi eventi le birre artigianali prodotte ovviamente nelle marche e soprattutto si possono utilizzare soltanto prodotti di qualità enogastronomica certificata delle marche in modo che diventino dei momenti veramente di orgoglio, di promozione e di conoscenza della cultura. In questo chiederemo aiuto anche alle associazioni culturali come Slow Food, come l'Accademia Italiana della Cucina, come l'Associazione Sommelier, deve diventare l'embrione di un progetto più ampio che noi presenteremo a ottobre e che la regione sta mettendo in campo per l'enoturismo. A settembre presenteremo il portale dell'enoturismo regionale che vedrà la valorizzazione dell'intero sistema attraverso la presenza soprattutto delle cantine, degli operatori di settore e anche di tutti i prodotti di qualità del territorio. Io credo che la filosofia di fondo di questo portale sia quella di, da un lato, di avere tutti i soggetti che saranno chiamati in gioco, la consapevolezza della forza di questo territorio e dall'altro l'esigenza dello stare insieme, quindi la funzione della interazione tra tutti questi, tra gli operatori, il territorio e l'offerta turistica generale credo che sarà l'elemento centrale della crescita e dello sviluppo dell'enoturismo nelle marche che sicuramente è uno degli aspetti fondanti della prospettiva dell'offerta turistica delle marche. Il vero chilometro zero del mondo agricolo è il mondo della ristorazione, cioè fare in modo che i prodotti delle nostre aziende che hanno fatto dei passi da gigante in questi anni in termini di qualità oltre che di quantità possono essere esitati nel mondo della ristorazione. L'edizione 2021 è stata molto importante, noi abbiamo presentato come associazione ristoratori due progetti, complessivamente 35 ristoranti che avevano partecipato a questa iniziativa, quella cioè di valorizzare il mondo delle produzioni locali, delle produzioni tipiche, non solo dei vini ma anche dei prodotti di OP oppure dei prodotti di slow food o comunque dei prodotti tipici regionali attraverso il mondo della ristorazione. E' stato un successo notevole, tantissimi turisti che hanno partecipato a queste serate ma tantissimi marchigiani che hanno approfittato di questo bando dalla vigna alla tavola per conoscere i piatti e i prodotti realizzati dai nostri ristoranti. E invece ieri al castello Branca Leoni di Piobbico c'è stata la presentazione in prima mondiale di un'opera pittorica di un maestro del Novecento bollato dal regime nazista. Gli esperti ritengono possa trattarsi di un'opera di Pablo Picasso mai attribuita all'artista spagnolo che avrebbe realizzato un tributo all'artista Paul Klee perseguitato e censurato dal regime nazista. L'autore dell'opera denominata L'occhio del serpente avrebbe infatti rappresentato nel dipinto Klee nei panni di Hitler inserendovi tutta una serie di contenuti che non erano tollerati dal Führer come la pipa, il rossetto e il trucco in viso. A Piobbico l'esperta d'arte Annalisa Di Maria è stata fra le principali studiose promotrici di questa tesi che è stata analizzata nella conferenza dal titolo L'arte in fuga da Hitler tenutasi a punto a Piobbico con il sostegno della comunità ebraica di Ancona, dell'Ampi di Pesaro Urbino, dell'Associazione Figli della Shoah e con il patrocinio dell'Università di Urbino. E ci spostiamo a Urbania dove il comune e l'ente concerti di Pesaro organizzano da domani 9 fino al 23 agosto il Durante Festival con un cartellone di altissimo livello che comprende quattro appuntamenti musicali nei generi della musica classica, jazz e musica latino-americana. Appuntamento inaugurale con il concerto dell'orchestra giovanile italiana di Sassofoni guidata da Federico Mondelci nel doppio ruolo di direttore e di solista. L'appuntamento appunto è per domani martedì 9 agosto alle 21.15 nel cortile del Palazzo Ducale di Urbania. E le immagini che invece vi stiamo per mostrare si riferiscono al primo memoria al Giovanni Ranocchi che nel campo parrocchiale di San Carlo Borromeo nel quartiere Pantano ha visto tornare a Pesaro la nazionale italiana di basket sorde, campione d'Europa e vice campione olimpica. Tutti i sostenitori che hanno seguito in questi anni le vicende della nazionale erano presenti in campo come l'Olimpia Basket che è stata una valida sparring partner della amichevole finita 58-30 per le azzurre oppure sugli spalti dagli amministratori come l'assessore della Dora e i consiglieri regionali Biancani e Vitri ma anche associazioni, atleti, familiari e amici. C'erano anche due vere glorie del quartiere di Pantano che hanno dato lustro allo sforzo organizzativo dell'Auser, ovvero il campione di basket Daniel Hackett e l'inesauribile poeta dialettale Carlo Pagnini. Arianna Ranocchi che proprio ieri festeggiava il suo compleanno si è emozionata nel ricordo del padre Giovanni sostenitore del progetto della nazionale sorde sin dall'inizio. Il main sponsor ha premiato anche il capitano delle azzurre Simona Cascio. Per accompagnare il cammino verso i mondiali di Creta 2023 Auser ha poi avviato la raccolta fondi per finanziare la spedizione delle azzurre in Grecia. E le spettacolari immagini che vi stiamo invece per mostrare ora si riferiscono alla nona edizione di The Magic Castle, manifestazione che invade di meraviglie il borgo storico di Gradara, manifestazione che è partita ieri e che attende visitatori a Gradara anche questa sera e domani. Torna a grande richiesta qui a Gradara la nona edizione del The Magic Castle. Dal tramonto fino alla mezzanotte per tre giorni consecutivi questo borgo potrà accogliere adulti e bambini di tutte le età per immergersi davvero in un mondo pieno di fantasia e di magia. Una vera e propria invasione quella di quest'anno di creature straordinarie provenienti da altri mondi. L'abbiamo chiamato Invasion perché come avete visto poco fa è un'invasione di artisti e arrivano da tutte le parti, dallo spazio, da altri pianeti, arrivano dal passato, dal presente e dal futuro. Tutti per regalare emozioni, sorrisi e divertimento. Programma ricchissimo anche quello di quest'anno con ospiti internazionali. Io le chiedo però se c'è una novità rispetto alle edizioni passate e invece una riconferma che non poteva mancare. La riconferma sono i saurus e non possono mancare fin quando ci sarò io, ci sarà il magicasto, i saurus cioè i closaki, i draghi, i famosi draghi ci saranno. La novità quest'anno sono pappagalli, prima volta in Italia, struzzi giganti, ennelli, un ippopotamo, viziatissima e quindi la novità è che ci sono tanti, tanti animali itineranti che cercano le persone. I leoni cinesi che sono una riconferma come buono spiccio, questi ci piacciono molto averli. Io faccio fatica perché io tutti gli artisti, anche i figuranti che ho chiamato, a me piacciono tutti e tutti si adoperano per rendere The Magic Castle magic, magico. Grazie davvero alla Proloco e ai tanti volontari che hanno reso possibile di nuovo realizzare questo bellissimo evento dedicato alla magia, all'immaginazione e perché no anche alla pace dopo due anni difficili di pandemia che ci hanno bloccato in tutti i sensi. Quindi davvero una bellissima emozione essere qua e rivedere tante persone che hanno voglia di divertirsi, stare insieme con questo bellissimo sentimento di amicizia e di fratellanza. Tanto più che in questi giorni abbiamo anche l'onore di avere ospiti tra noi, uno dei nostri comuni gemellati che è il comune di Murat Pasha in Antaglia con il vice sindaco Oya Kansu che ringrazio per essere qua e quindi ancora più spirito internazionale, non solo gli artisti che vengono da tutto il mondo ma anche una delegazione di un comune importantissimo della Turchia, uno dei più famosi dal punto di vista turistico che è qua con noi a condividere tanto gioia e felicità ma anche progetti per il futuro di cooperazione soprattutto giovanile. E quello che avete appena visto è soltanto un assaggio di quello che è The Magic Castle che potrete approfondire in uno speciale realizzato proprio dalla nostra Roberta Esperida che vi trasmetteremo mercoledì 10 agosto alle ore 21 e 20. Vediamo invece qual è la prima serata di questo lunedì con la nostra Roberta e con Paolo Pagnini, vi stiamo riproponendo la fortunata stagione di Masterfish, il pesce va in onda, una seconda stagione che sarà trasmessa tutti i lunedì compreso questo dalle 21 e 20. E come sempre vi ricordiamo anche l'app di Rossini TV, uno strumento assolutamente fondamentale da inserire nel nostro smartphone per avere a portata di click le nostre notizie, consultare la nostra programmazione oppure per inviare segnalazioni alla redazione. E l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina con Buongiorno Rossini, appuntamento fisso con la nostra segna stampa dei quotidiani locali dal lunedì al sabato edizione del martedì 9 agosto che sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi. Ed è davvero tutto per questa sera, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.